Nessun blocco o problema particolare al porto di Gioia Tauro, il più grande scalo di import-export italiano in concomitanza con l'introduzione dell'obbligo del Green Pass. Tra il primo turno scattato a l'1 e terminato alle 7 e il secondo, cominciato alle 7 e concluso alle 13, circa 60 lavoratori sui 280 totali non si sono presentati perché sprovvisti del certificato. Certamente il settore dei trasporti è un settore nevralgico per il sistema economico del Paese. Io ho l'ottica di Gioia Tauro. Noi nel periodo più duro, veramente più drammatico del lockdown, il porto di Gioia Tauro, come tutti gli altri porti, è stato un porto che è rimasto aperto, non solo è rimasto aperto, ma ha fatto numeri eccezionali in aumento l'anno scorso grazie all'abnegazione dei lavoratori portuali e grazie all'abnegazione delle aziende che hanno messo condizioni di sicurezza e di salvaguardia della salute nelle proprie aziende. Alle 10 un sit-in davanti al gate portuale di adesione a questo sciopero no Green Pass proprio per chiedere al governo di ritirare l'obbligo del certificato verde con la presenza di un legale. Comunque la situazione è rimasta tranquilla. Non credo che siano Novax, credo che siano persone che hanno inteso comunque protestare contro l'obbligo del Green Pass. Comunque ad ogni buon conto noi ieri durante un comitato igiene e sicurezza abbiamo registrato la disponibilità dell'azienda nelle more per un periodo limitato di due o tre settimane di mettere a disposizione dei tamponi gratuiti. Ci sarà anche il supporto logistico di questa autorità di sistema portuale e quindi poi fra tre settimane faremo i conti e vedremo cosa è successo.